Matteo Tomei, noi lo ricordiamo che su quell'area lì dove era una porta che adesso non c'è perché è dismessa, prese gol da un certo infantino, un gran bel gol per lui. E non pensavo che tu arrivassi a terra, sinceramente. Ma devo innanzitutto ringraziare la proprietà, ringraziare l'allenatore che mi hanno cercato e quando un allenatore ti chiama è quasi impossibile rifiutare la chiamata. Tu sei stato col mister a Pordenone? Sì, io sono stato col mister a Pordenone per il biegno dei play-off, della cavalcata play-off sfumata, del furto del Parma. Si può dire così, non è bello dire, però si può dire così. E poi dopo ho fatto anche un biegno a San Donato in Serie D e niente, poi dopo il mister ha fatto un gran bel salto, quello che merita, è andato a Palermo e poi dopo adesso, grazie a Dio, ci siamo ritrovati. Eh sì, tu dici grazie a Dio, io dico per fortuna perché credo che siamo di fronte, vabbè, per te lo è particolarmente, ad un allenatore fortissimo, bravissimo. Assolutamente sì, non c'è niente da dire, è un allenatore che io definisco l'encicolpedia del calcio perché sa tutto e di tutti, sa anche sotto il punto di vista umano e credo che non siamo di certo noi a scoprire le qualità di questo allenatore. Sai, lo scorso anno a Teramo c'è stata una storia bellissima di tre portieri, tre, che alla fine erano diventati tutti e tre titolari, perché è partito alla grande, Lewandowski, è entrato Gomis benissimo, si è fatto male Gomis, è entrato il terzo, bene anche Pacini. Adesso te ne ritroverai sulla strada, in questo momento almeno due, anche se Gomis è in fase di recupero e per un portiere esperto è difficile andare in competizione o no? Ma guarda, la competizione è bella quando è sana, poi dopo quando si diventa una competizione con interessi dietro non è più bella, non si sta più bene insieme. Io credo che poi dopo il mister deciderà tutto il da farsi, tutte le gerarchie, credo che come nel ruolo del portiere, ma penso come in tutti i ruoli, ci sono delle gerarchie. Quindi poi dopo sarà il mister a capire quali saranno e poi dopo sicuramente spetterà a noi confermare e soprattutto ricambiare la fiducia del nostro allenatore. Tu che tipo di portiere sei? Io preferisco dire che sono un portiere che ama questo Prato Verde, che quando entro in questo Prato Verde cerca di dare sempre il massimo, cerca di dare sempre tutto me stesso per cercare di fare carriera. Perché ancora mi sento giovane, anche se ho 35 anni, però ho una grande voglia di andare in alto sempre. Quindi cercherò sempre come provo a farlo ogni anno, a dare tutto me stesso per la causa Teramo perché è una città che, ripeto, non la scopro io, che ama il calcio, che vive di calcio. Quindi sarebbe bello e ci proveremo con tutti noi stessi a portare grande entusiasmo. Anche perché il grande entusiasmo lo sta creando una grande società e alla grande società dovrebbero, e uso il condizionale, far seguito grandi risultati. Perché purtroppo le cose non si sposano matematicamente. Lo sai meglio di me, hai detto bene, nel calcio purtroppo e per fortuna è sempre molto imprevedibile. Quindi di conseguenza sta a noi, sta a noi ricambiare la fiducia di questa grande proprietà che ha fatto grandi sforzi e che crede in un progetto, secondo me, spero, importante. Quindi sicuramente in questo momento siamo sempre in debito con loro perché ci hanno dato l'opportunità di far parte di un progetto serio. Il girone C o il girone B è uguale? Ma credo che tutti i tre gironi, come l'anno scorso, l'anno scorso forse il B era quello nostro, dove c'era sia la vispesa, dove ero io l'anno scorso, sia il terramo, era il girone più equilibrato. Poi dopo sicuramente il C è un girone molto duro, tosto, con dei fattori ambientali molto presenti e quindi sicuramente è un bel girone, quindi non cambia niente assolutamente.